Tu, brutto, tu, tu, brutto, tu, in acqua imbrillone, tu, tu, canaglia, tu, di un rapigatto. Un terribile sortileggio. Ma sarei davvero io? Un magico castello incantato. Un giovane affascinante mago. Dal maestro dell'animazione, Ayao Miyazaki, un viaggio meraviglioso nel mondo della fantasia. Ma io sono innamorata di te, io ti amo! È tardi. Ma davvero? In prima visione TV, il castello errante di Ayao. Lunedì alle 21.10 su Rai 3. Quanti regali! Che bella talone. Vodafone. Auguri! Buone feste! È la banca per me! Ma da abbastanza per me! È sicura e lo sai, gli interessi vedrai! Sono su di domani! Ma quel che amo lei! È 4 e 73! Una promozione non è! Che banca! Gruppo Mediobanca! L'operazione Happy Meal sarà un successo! Vinto! Questo li farà di strano! Date il via alla musica ragazzi! Mi piace se ti muovi! Mi piace quel che muovi! E allora? Funziona perfettamente! I protagonisti del film DreamWorks Madagascar 2 ti aspettano dal 26 dicembre nel Happy Meal! Ma sono se ti muove venire da McDonald's! Un bel sorriso ragazzi! L'Happy Meal è al sicuro! I pinguini sanno volare! Dal 26 dicembre nel Happy Meal ha solo 4 euro! Quanti gesti hai dimenticato! Dimentica anche la vecchia bolletta! Con i light di Enel Energia si fa tutto sul web e fino al 31 gennaio è ancora più conveniente! Afte e legioni della bocca? Alovex forma una pellicola protettiva! Attenua il dolore, non brucia e favorisce la cicatrizzazione! Alovex, più protezione, meno dolore per adulti e bambini! Ci sono persone che combattono da sempre! Uomini e donne che hanno fatto guerra alla guerra senza mai usare altra arma che la propria vita! Oggi vorremmo abbracciarli tutti! Ma c'è un abbraccio che ci manca! Questo film è indicato a Daun San Suu Kyi Premio Nobel per la pace Per il geniere del suo paese Per il geniere del pasado! Te lo, che sia cominciato a di poter dire energiare! Palmaverde Bio, massa al biologico Buon ragazzo, mi piace molto vederlo Ok, quindi lei verrà? No, arrivederci, grazie Grazie Qualcuno va a fare colazione? Quali colazione? Dov'è? Ecco qua, sotto al cappeto magico